Musica Rivoluzione urbanistica nell'area di Porta Barete, che il comune dell'Aquila si appresta a riportare al suo antico splendore, e nell'area di Villa Gioia, a fianco al Tribunale, dove ora c'è anche la sede del Consiglio Comunale. La famigerata palazzina del Civico 207, annunciato infatti oggi l'assessore alla ricostruzione Pietro Di Stefano, non potendo essere ricostruita davanti alla porta più antica della città, risalente al XIII secolo, area ora vincolata, potrà essere delocalizzata nell'area dove ora ci sono i ruderi delle ex magistrali a Villa Gioia, di proprietà comunale, con buona pace dei condomini che ancora fanno resistenze. Il bene pubblico deve prevalere su quello privato, ha sottolineato Di Stefano, se i condomini sono d'accordo a delocalizzare a Villa Gioia, a meno di 200 metri, è bene, altrimenti la parola, per quanto mi riguarda, passa ai giudici. Ma non solo, non verranno ricostruite buona parte delle parole di Di Stefano, orribili palazzine costruite a ridosso delle mura, insulte alla decenza dell'edilizia anni 60, visto che i condomini hanno questa volta tutti o quasi accettato di delocalizzare in altre aree, o permutare con appartamenti comunali le loro vecchie proprietà. Le cinque palazzine ne resteranno accorpate solo due e molto più a monte dell'area di Porta Barete. In questo modo, Gongola Di Stefano, si potrà recuperare l'intera area con la riapertura dell'antica porta, la creazione di un'area verde archeologica e la rimozione di tutto il terrapieno della parte iniziale di Via Roma, nonché l'abbattimento di un altro orrore architettonico, il ponte di cemento che sovrastra Porta Barete e le mura. A Villa Gioia poi saranno create aree verdi e altri parcheggi, anche qui con una salutare opera di diradamento edilizio. È ambizioso, ma aggiungiamo che è anche voluto, è voluto dall'intera città, almeno il recupero dell'area di Porta Barete, quella che viene definita nelle pappe storiche la porta principale della città, e la riorganizzazione del complesso di Villa Gioia, dove una centralità di carattere amministrativo-giudiziario già si è realizzata. Si tratta di una riorganizzazione urbanistica di un bel pezzo di città, sia nella parte storica, sia nella parte direzionale, e qualche soluzione importante per gli abitanti che abitavano al ridosso di Porta Barete. Quali sono le soluzioni? Le soluzioni sono in parte quelle che avevamo già detto, cioè l'invernizzo diretto per l'abitazione principale, la permuta dell'abitazione diversa dalla principale con i mobili del comune, in più un'area dove poter ricostruire per coloro che vogliono invece ricostruire la casa. Tere e greggi di pecore saranno assunte dal comune dell'Aquila con il compito di tagliare i prati, in cambio una buona razione di erba primaverile, sostituendo il decespugliatore e macchinari, con l'abbattimento di rumore ed emissioni e garantendo in più la concimazione naturale delle aree verdi. Lo prevede l'accordo siglato tra il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, e il presidente nazionale di Coldiretti, Roberto Moncalvo, una firma avvenuta in occasione del Pecora Day, in svolgimento nel capologo abruzzese, nel centro universitario sportivo Centicolella. Migliaia di partecipanti nel convegno dentro il palazzetto dello sport, anche tutta la politica regionale in prima fila. La manifestazione cade a 15 anni esatti dall'approvazione della legge 228 del 2001, che ha evidenziato la Coldiretti a spinto la rinascita dell'agricoltura italiana e a 20 anni dalla prima colonazione animale con la nascita della pecora dolly. L'occasione è stata però soprattutto quella di ricordare a tutti che la pastorizia non è un passato nostalgico e oleografico, ma è il futuro, in particolare in regioni come l'Abruzzo, che non hanno certo scarsità di pascoli, di tradizioni e competenze nel settore. A dirlo sono i numeri, dopo decenni torno ad aumentare le pecore, arrivato a un patrimonio di 7,2 milioni di capi, quasi 200 mila in più rispetto a 5 anni fa. Si moltiplano poi le aziende e aumentano i giovani, che tornano all'allevamento degli ovini. Ancora, il formaggio pecorino nel 2015 ha fatto registrare il record di esportazioni, con un più 17%, con punte del più 410% nel mercato cinese, arrivando ad una produzione annua di 60 milioni di chili, dei quali circa la metà denominazione di origine. Una ragione in più per dire no agli accordi per il libero scambio transatlantico è la libertà degli investimenti, TTIP, tra Europa e Stati Uniti. Il nostro paese è stato ribadito più volte e deve restare fedele a ciò che ha di buono e genuino. La riscossa della pecora vuole anche essere un messaggio positivo rispetto a un territorio che ha vissuto un dramma grande come quello del terremoto, ma che oggi ha tutte le carte in regola per rinascere, proprio anche legandosi profondamente alle tradizioni e all'agricoltura e alla manutenzione del territorio. La pecora negli ultimi 5 anni ha avuto più 200 mila animali, giovani pastori che arrivano, più 17% il pecorino all'estero nell'ultimo anno. Dobbiamo trasferire sugli allevatori il valore di questo successo e costruire intorno a questo mestiere fondamentale traiettorie di futuro e nuova occupazione in Abruzzo, ma in tanta parte del nostro paese. Ironia dei destini possismici, il fotografo Roberto Grillo torna ad aprire il suo studio in centro storico all'Aquila, lungo corso Vittorio Emanuele, soggetto di uno dei suoi primi drammatici e bellissimi scatti a poche ore dal terremoto. Oggi un incontro con la stampa, l'inaugurazione vera e propria, ci sarà sabato 21 e domenica 22, dalle 8 del mattino alle 8 della sera. Una scelta un po' folle, ma spiega Grillo, non potevo più aspettare, sentivo che ero pronto per tornare a una questione di sentirselo dentro. Anche se intorno ci sono solo cantieri e ben pochi abitanti, chissà per quanti anni ancora. Un ritorno che va vissuto come il coronamento a 35 anni di onorata carriera e il suo non sarà solo un tradizionale studio fotografico, ma una galleria d'arte, un'esposizione permanente, anche delle cornici del padre artigiano Nicola Grillo, luogo di eventi legati all'arte e al demone del fotografare, utilizzando anche il bel cortile di Palazzo Alessandri appena ristrutturato, messo a disposizione dei proprietari dei locali del nuovo studio Grillo, affittati, caso raro nel possismo aquilano, a prezzo equo, proprio a seguito di un appello a mezzo stampa del tenace fotografo. La mia azione ovviamente non è soltanto commerciale, ma c'è un retro pensiero fortemente culturale e artistico, quindi spero prima di ogni cosa di poter diventare nel mio piccolo, nel mio settore un punto di riferimento in una città che comunque è ancora sicuramente troppo vuota. Spero di riprendere e di riavvicinare tutti i miei clienti e amici che ho perso dopo il terremoto di visto, ovviamente, e magari acquisirne nuovi. Comunque, un segnale di ritorno oltre le attività di somministrazione di cibi e bevande. Così, spero di dare un piccolo segnale. Quindi anche lei si è, diciamo, reinventato aggiungendo anche servizi, prospettivi? Beh, oddio, in realtà l'unica novità che c'è rispetto alla mia fase precedente, il terremoto, semplicemente l'idea, avendo rapporti con gallerie d'arte ormai in giro per il mondo, ho pensato di diventare qui all'Aquila gallerista di me stesso, nel senso, proporre oltre a quello che ho sempre fatto, quindi fotografia di matrimonio, ritratti fotografici o, non so, le cornici di mio padre, quello anche, nello stesso spazio, di proporre comunque la mia fotografia d'arte che all'Aquila è realmente una grande novità. Grazie a tutti.